Dominique, allora innanzitutto benvenuta a Busto, non è molto che sei arrivata, abbiamo visto le tue fatiche che hai fatto, insomma sei super allenata, tra l'altro, vabbè, anche una medaglia che probabilmente ogni tanto ci pensi, insomma, però avete fatto veramente un bellissimo cammino. Senti, al di là dell'amichevole di questa sera, al di là del punteggio, mi sembra, come dicevo prima, che giocando assieme potete solo migliorare. Già si è vista una buona intesa stasera. Sì, sì, assolutamente, è la prima settimana che lavoro qui con le ragazze e da subito mi sono trovata benissimo sia col gruppo che con tutte le intese ci è voluto pochissimo e speriamo di poter continuare a lavorare così come stiamo facendo e che sono contentissima di quello che stiamo facendo in campo. Ecco, poi penso che sotto la guida di Velasco, insomma, vi dà dei giusti consigli, utili, te come molte giocatrici avete fatto un triplo salto mortale qua, insomma, questa... Assolutamente. Cioè la realtà è molto diversa, quello voglio dire. Sì, 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 per me personalmente è cambiato tutto, ma è una realtà che mi piace e avrà sicuramente tantissimo da imparare e non vedo l'ora. Grazie. Grazie.